Città Viola Firenze, la Fiorentina e i dintorni General Manager di Firenze Marathon Che magari arriva a sorpresa Caro Fabio Prima di entrare nel merito proprio di Marathon Expo E con te anche di tutto l'argomento Comunicazione, interattività Perché insomma sono le settimane precedenti Alla Firenze Marathon e sono stati lanciati Degli hashtag che tra poco ricorderemo E che servono anche a chi In questi giorni, in queste settimane Si sta preparando poi alla fine Alla Firenze Marathon Volevo però prima con Luca Paradisi ascoltare Questo contributo che ci serve anche Per introdurre tutti i nostri argomenti Con il presidente di Firenze Marathon Giancarlo Romiti Che parte da Corri la Vita Che è l'appuntamento più vicino In termini temporali Si corre il 30 settembre E poi passa ovviamente anche su tutte le info Riguardo alla maratona Sentiamo insieme Giancarlo Romiti Grazie alla collaborazione di Lady Radio Sono qui stasera A nome di tutta la Firenze Marathon A ricordare un importante evento Che c'è in questo mese Il 30 settembre Corri la Vita Corri la Vita Alla 17esima edizione Con la collaborazione Fin dalla prima edizione Della Firenze Marathon Che grazie al popolo dei volontari Della Firenze Marathon E di Corri la Vita E della Lilt Garantiscono qualità organizzativa E servizio per questo importante evento Per la città di Firenze Già da più di una settimana Sono aperte le iscrizioni Anzi invito chi ancora non l'ha fatto A iscriversi Ricordo che un punto di iscrizione E anche la Firenze Marathon Presso lo stadio di atletica Asics Firenze Marathon E di conseguenza Vi invitiamo veramente A partecipare a questa Attività Di sostegno A questa importante iniziativa Per la lotta contro i tumori Voglio anche ricordare Per chi partecipa a questa corsa Chiamiamola corsa A questa passeggiata Per chi lo fa con spirito Più agonistico Può cominciare a prepararsi Alla Firenze Marathon Del 25 di novembre Sono 42 km agonisti Ma potrebbe essere uno spunto Per provarci Inoltre ricordo che Proprio sempre con iniziative di charity Il sabato Sempre il sabato 24 novembre Presso il palazzo del maggio musicale In piazza Gui Ci sarà una importante staffetta Dove ognuno potrà iscriversi A una staffetta di 3x7 km Non è agonistica Di conseguenza ognuno potrà iscriversi E potrà così partecipare Anche in questa occasione A sostenere un'associazione di charity Per cui a tutti Un grande appuntamento alla Firenze Marathon Ma a tutto quello Che ci avvicinerà a questo evento E allora questo era il presidente Giancarlo Rumiti In questo contributo Tra poco salutiamo anche Diego Petrini Che ci ha raggiunto in studio Con Fabio Burchi Lo ricordiamo responsabile Dell'Expo di Firenze Marathon Ricomincerei proprio da qua Perché insomma Ci serve anche per riprendere il filo Con quello che dicevamo Proprio con Diego Una settimana fa Diego ben trovato Ci sono le scale Però tu sei allenato Quindi vabbè Un po' di fiatone Non ci sono problemi Però la terza rampa Ecco può dare effettivamente Un po' di fiatone Ti domando Fabio Insomma come cambia Questa Firenze Marathon Con la logistica Che si sposta poi anche Alla stazione Leopolda Ricordiamo le date 23 e 24 novembre Allora direi che quest'anno Cambia la parte logistica Del pre-maratona In quanto Per quanto riguarda il percorso Grossissime variazioni Salvo imprevisti dell'ultimo minuto Non ci saranno Sicuramente Non ci sono Mentre per la logistica Per quello riguarda appunto L'Expo Ci trasferiamo Dalla zona di Campo di Marte Alla stazione Leopolda Un polo Fieristico quasi naturale Perché tutta la Chiunque ormai di Firenze Conosce la stazione Leopolda Si svolgono le principali Manifestazioni fieristiche Ed è uno spazio ideale Proprio per Quello che andremo a proporre E fare tutti noi appunto Da questo punto di vista La manifestazione si svolgerà La settimana prima In particolar modo Sarà aperta al pubblico Dal giovedì E dal venerdì Scusate Venerdì e sabato Appunto aperta al pubblico Ci saranno non soltanto L'opportunità di poter Ritirare i pettorali Per tutti i puri maratoneti Ma poi ci sarà all'interno Anche tutta una serie di eventi Manifestazioni Episodi Di storie strane Convegni E tutto quanto Chi di più ha Più ne metta Perché come Caso Dice proprio Il nome che gli abbiamo dato Quest'anno Noi vogliamo Veramente cercare Di creare Non la classica Visita a una fiera Prima di un evento Ma proprio creare Un'esperienza Far trasmettere Far vivere un'esperienza A tutti coloro Che vengono a trovarci E anche per quanto riguarda Diego Quello che accade fuori Parlavamo anche Della staffetta E lo vogliamo ricordare Lo facevamo una settimana fa Per la 3x7 E poi c'è anche la Ginki Family Run Di 3 km Sì Nello spazio attivo Appunto di Piazza Gui Ci sarà Un villaggio Diciamo Parallelo A quello che è appunto L'esperienza Expo Partenza e arrivo Della staffetta Stanno continuando Ad arrivare le iscrizioni Quindi una manifestazione Colaterale Importantissima Questo per quanto riguarda La mattina Il pomeriggio La Family Run E quindi insomma Tra Piazza Gui E fondamentalmente L'accesso Allo stesso Expo Sarà secondo me Un'esperienza Molto importante Un po' quello che Già sottolineava Fabio E poi vorrei che Continuassi un attimino A sottolineare Questo aspetto Perché insomma Fabio è Un consigliere Maratona Ma è responsabile Dell'Expo Fabio ci sono Diverse aziende Insomma Che ci stanno bussando E che c'è C'è un fervore Effettivamente Speriamo All'interno dell'Expo Lo spostamento Appunto Dalla zona Di Campodimarte Dall'ex Nostro stadio D'atletica Fino alla Leopolda È perché Come si dice in gergo Abbiamo voluto Alzare l'asticella Abbiamo voluto Alzare l'asticella Sia come Quantità Di possibilità Di nuovi espositori Di nuove aziende Che ci vengono Appunto A esporre da noi Ma anche come qualità Di Tutto Nel complesso Nel tutto Del complesso Da un punto di vista Anche spettacolare Perché comunque Tutto l'impianto De Leopolda Molto arioso Molto alto Con questo Look Un po' Molto particolare Che è apparentemente Mi vorrebbe a dire Della vecchia Fabbrica Trasandata Insomma Molto suggestivo Esatto Con alcuni accorgimenti Che alcuni Abbiamo già visti In preview È un Expo Che esce dal proprio Territorio Anche sportivo Conoscere All'interno Dello stadio Esatto Lo scopo Infatti è Come dicevo prima Cercare di far vivere Proprio questa esperienza Ad ampio raggio Ovvio Il principale La cosa principale La fa comunque Il mondo della maratona Il mondo del running Ma non ci limitiamo Esclusivamente A espositori O esposizioni Di puro argomento Podismo Non dimentichiamo Che è molto Diciamo I cugini dei running Dei runners puri Sono i triatleti Che poi Esagerano ancora di più Nel volere Come dico io Durare ancora più fatica Di voler mettere alla prova Le cose ancora di più Ed ecco che Aggiungono nuoto Ci aggiungono biciclette Eccetera Ma poi tutto il mondo Del fitness Tutto il mondo Non ci dimentichiamo Del voler stare bene Del voler fare Attività fisica Veramente per star bene Non so Prende voglia Poi alla fine Di visitare una cosa così Perché ci dice Non è solo Un evento Diego Per gli addetti ai lavori O dove si trovano Diciamo La solita oggettistica O le solite informazioni In questo tipo di eventi Ma è qualcosa In più E la location Certamente È un bel primo inizio Per poter scoprire Questo Ma appunto La location Ovviamente aiuta Perché tutti noi Ricordiamo La Leopolda Fondamentalmente Anche per degli eventi Quasi glamour Anzi Glamour Della città E quindi Già questo Anche noi Vogliamo un pochino Spostare Diciamo L'attenzione Al running Pure Al popolo Del running Puro Al popolo Sportivo Barra wellness Quindi sì Ci saranno Marchi Importanti Non voglio fare nome Ma insomma Marchi legate Ovviamente al settore Running Ma anche aziende Che magari ruotano In altre discipline In altre attività Il nostro obiettivo Un po' Come diceva Pabllo È alzare l'asticella Ma anche Far diventare Quello che è sempre stato Diciamo Un punto di riferimento Per chi partecipa Alla maratona Cioè vado Nel luogo Dove devo ritirare Proprio E materialmente Il pettorale Il pacco gara Diciamo A una vera fiera Sportiva Della città E anche Questa nostra collaborazione Che sta iniziando Quest'anno Ricordo che noi Abbiamo opzionato Fabio Dimmi se non erro Per i prossimi tre anni La Leopolda Tramite appunto Una 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 Collaborazione Direttamente Anche con Gli stessi gestori Dell'impianto Ricordiamo La società Pitti Proprio perché Fondamentalmente Il nostro obiettivo E anche questo L'obiettivo Diciamo Diciamo un po' A 360 gradi Tramite anche L'ufficio sport E gli altri uffici comunali Che ci aiutano in questo Di riportare un po' Una fiera Prettamente sportiva Insomma Se ti ricordi Già in passato Ci sono stati Degli episodi Ricordiamo La fiera del fitness Di qualche anno fa Eccetera Insomma Il nostro obiettivo È quello di Crescere Con il nostro expo Ma crescere anche All'interno Delle città E per la città Quindi Venerdì Sabato Ultima settimana Di novembre 23-24 novembre Questa fiera Aperta a tutti A ingresso Lo ripeto Gratuito E sarà veramente Una bella esperienza Quindi passate Dallo Pol Da quei giorni Eh Fabio Ti dico due numeri Soltanto Per capire un po' Le dinamiche Negli anni passati Il Marathon Expo Negli anni passati Ha comunque contato Sui 30 mila 28 mila 30 mila Visitatori Circa Con Un'ottantina Di aziende Che hanno Esposto I loro servizi Le loro Merci I loro prodotti Tenete presente Che ad oggi Dell'ottantina Di aziende Dell'anno scorso Già 50 Ci hanno già Confermato E gli spazi Espositivi Dello scorso anno Li abbiamo già Ampiamente Superati Superati Tanto che Dovremmo vedere Per fortuna Leopolda Ha spazio ancora Se dobbiamo Opzionare Ancora spazio No Insomma Numeri che A due mesi e mezzo Di distanza Già sono rilevanti Ci avviamo Verso la conclusione Però volevo Che Fabio Ricordasse Allora Intanto Dal punto di vista Della comunicazione Come tramite Gli hashtag State lanciando L'appuntamento Della Firenze Marathon Perché Ovviamente Vogliamo seguire Sui social Le tappe di avvicinamento Che ogni atleta Poi sta facendo In queste settimane Per arrivare All'appuntamento Di novembre Esatto Sono stati lanciati Appunto Questi due Hashtag Io corro La Firenze Marathon E I run in Florence Proprio per creare Questa comunità Di podisti Che preparando La manifestazione Preparando La manifestazione Possono interagire Con fotografie Con commenti Appunto Sui nostri Account Twitter Instagram Facebook Eccetera E prepararsi insieme E creare Quella che in fondo I social chiedono Una vera e propria Community Io corro La Firenze Marathon I run in Florence I move Florence Sono questi tre Giusto? Gli hashtag Che ricordiamo Ancora una volta Nel salutare Diego Petrini Continua il lavoro Da parte dei volontari Perché lo dicevamo Mancano due mesi e mezzo Ma già ora Avviene la preparazione Poi della Io finisco qua E li vado a raggiungere Ecco ecco E noi salutiamo Chi in questo momento Sta lavorando Proprio alla Firenze Marathon E chi fosse interessato A diventare Poi volontario Lo dicevamo Anche negli scorsi appuntamenti Di mettersi in contatto Con Firenze Marathon Allora 18 e 3 minuti Termina qua L'appuntamento Con Cittaviola Vado a salutare Fabio Burchi Responsabile Expo Di Firenze Marathon Grazie Fabio Grazie a Diego Petrini General Manager Di Firenze Marathon E poi ci riaggiorniamo Con gli amici Di Firenze Marathon Appunto a partire Dal prossimo Martedì Grazie a Luca Paradisi Al coordinamento tecnico Grazie a voi Che ci avete seguito In tv e in radio L'appuntamento Domani con Cittaviola Alle 17 E sin da domattina Sulle di radio Torniamo in diretta Alle 6 del mattino Con il GR del mattino Da Federico Sartoni L'augurio Di una felice serata Domani Ciao Grazie a tutti